Oggi parliamo di terreno, uno dei grandi dimenticati della storia, uno dei grandi dimenticati di questa nostra epoca storica, uno dei grandi dimenticati di questo dibattito così polarizzato al quale stiamo vivendo, che potrebbe fornire una risposta al perché molte persone, magari senza nemmeno saperlo, si ribellano a questa visione, a questo pensiero unico. Il terreno, usiamo questa metafora, immaginiamo un campo pieno di strepaglie, arido e buttiamo un fiammifero, lo scenario è presto visto, oppure poi immaginiamo un prato verde ben curato, irrigato, custodito e buttiamo un cerino, poco male, no? Ora, è evidente la metafora, il virus, il cerino, il terreno, consente una risposta molto diversa. Ora, se noi ci occupiamo solo del cerino che viene buttato di tanto in tanto e non del terreno, stiamo compiendo un misfatto. Non c'è niente di scientifico nel combattere i piromani che mettono il fiammifero o nell'attaccare i fiammifero e magari ne mettere telecamere intorno al terreno o guardie forestali che curino che nessuno entri o che buttino fuori, che tolgono i cerini appena vengono gettati. Certo, un'operazione utile che salva un po' la faccenda, ma è evidente che non è la soluzione. È evidente a chiunque, come diceva Bates, ogni scolaretto sa che devi bonificare il terreno. Ora, gran parte degli esseri umani, soprattutto andando avanti con l'età, soprattutto mangiando male, fumando, bevendo, non facendo sport e soprattutto non gestendo le loro emozioni o non essendo in contatto con se stessi, sviluppano quella che si chiama una sindrome di infiammazione subcronica, cioè il nostro terreno, soprattutto il cosiddetto mesenchima, cioè quell'insieme di rete, di tessuto che tiene insieme le cellule e gli organi. Immaginatevela questa rete, infiammata, piena di tossine, di detriti, tossine dell'inquinamento, tossine del tabacco, tossine del cibo, tossine della rabbia, tossine della paura e buttiamo lì un fiammifero e allora cosa facciamo? Combattiamo i fiammiferi. Mi piacerebbe sentire parlare della infiammazione subcronica che attinge la stragrande maggioranza della popolazione anziana e degli adulti che non rispettano le più normali regole di ecologia interiore. E allora questo è lo squilibrio, ditelo, ditelo a chi vi dice ma tu sei uno vax, ma tu sei contro la scienza. Urliamolo a chiare lettere, avete dimenticato il terreno. ne usciremo, si riuscirà come quando il Canada Air alla fine domano l'incendio. Riuscirete, sì, riuscirà la scienza a portarci fuori dalla pandemia anche perché le pandemie finiscono da sole. Ma cosa sarà cambiato se ancora si trascura il terreno e si combatte il microbole? Vi lascio con una frase di Pasteur a Claude Bernard, sapete forse che Claude Bernard, un grande medico scienziato, parlava appunto di terreno e Pasteur ha scoperto i batteri. Ma Pasteur a un certo punto scrive una lettera a Claude Bernard e dice, hai ragione caro Bernard, il terreno è molto importante, anzi il terreno è tutto, il microbo è nulla, questo detto dallo scopritore dei batteri, dei microbi, forse dovremmo rifletterci.